ma benvenuti in questo mio nuovo video buongiorno a tutti come state spero tutto bene allora come avete visto dall'introduzione di questo video oggi mi devo assolutamente dedicare queste due ore a sistemare casa perché è un disastro come avete visto è vergognosa la situazione della mia casa in questo momento però chi ha figli piccoli lo sa che purtroppo non si riesce a stare sempre dietro a tutto soprattutto quando si ha anche un lavoro quindi non si ha tutto il tempo per curare la propria casa come si vorrebbe parentesi chiusa e niente vi lascio a questo video che so che vi piace infatti nel video precedente a questo delle pulizie mi avete lasciato tanti commenti carini in cui mi dicevate che questo genere di video vi piace e allora con piacere sono qui a girarvene uno nuovo se vi piace questo genere di video cliccate mi piace iscrivetevi al mio canale attivando la campanella così mi aiuterete a crescere e io ve ne ringrazio tanto 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 partiamo subito a sistemare questo casino a dopo ciao a 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